È stato riaperto al traffico il ponte di Fertile, al transito sul ponte e regolato da semafori per il passaggio a senso unico alternato. Il traffico resterà aperto fino al momento del posizionamento delle nuove passerelle, operazione che orientativamente avverrà tra 60 giorni, quando la circolazione delle auto sarà nuovamente interrotta per consentire i lavori di installazione. L'appalto in corso è giunto infatti alla fase di predisposizione strutturale di sostegno alle nuove passerelle, con strutture portanti completamente in acciaio ed elementi di pavimentazione in resina poliessere antisdrucciolo. Le opere aggiudicate all'impresa CIMEC di Canalicchio SRL consistono nella sostituzione delle strutture portanti in legno, deteriorate e testimoni dello stato d'incuria dell'opera realizzata oltre 20 anni fa, al posto delle quali verranno collocate le nuove più resistenti pavimentazioni, così come previsto dall'appalto che conta su un investimento di 642 mila euro, reperiti con fondi di bilancio.